Per me rappresenta in realtà un po' un punto di chiusura di tutto il percorso degli ultimi Tre anni da concedimi in poi che non mi sono fermato un attimo e in realtà rappresenta anche però un punto di inizio Sto finendo l'università adesso, ho fatto tutto il mio percorso di crescita personale, anche artistico, di scoperta Quindi proprio sento di essere al momento giusto per far sentire questa parte di me e quello che sono fino ad adesso E mandare anche un messaggio di ciò che voglio essere, di dove voglio andare Quindi finta nostalgia anche per questo, ascolto i vecchi brani, ascolto ciò che è stato, che erano tre anni fa Concedimi virale e dico cavolo quanto sono cambiato ma allo stesso tempo quanto sono sempre io Quanto il mio modo di vedere le cose e il mio punto di vista è sempre rimasto lo stesso Comunque per quanto sia cambiato è rimasto sempre molto polarizzato e polarizzante Ho sempre avuto delle idee molto precise e molto chiare Poiché io in primis non le avessi chiare era un altro conto Però mi sento che il mio filo conduttore è proprio che nel momento in cui scrivo qualcosa o qualcosa che sento è bello nitido e bello preciso Sono tracce anche molto lontane nel tempo fra di loro Se tu ascolti la prima e l'ultima che non so se necessariamente è Tornado che è l'ultimo singolo Comunque l'ultima che tu hai scritto Sì, una delle ultime Che Matteo senti appunto? Ma sento un Matteo cresciuto nelle ultime, sento un Matteo che ha più modo di raccontarsi e si sente anche più sincero forse Non che non lo fosse prima ma che sicuramente ha anche più consapevolezza di quello che è il mezzo scrittura e che è il mezzo musica Prima era istinto e pancia al 100% e piano piano è diventata sempre più pancia consapevole Sento che la mia musica parla sempre di ciò che io poi sento dentro e di ciò che mi colpisce vicino a me Ma soprattutto guardando all'inizio vedo la mia ingenuità che era la cosa bella poi del me di 18 anni E la cosa bella che vedo adesso è l'aver accettato che sto cambiando e che sto crescendo costantemente E che ci sono delle cose che cambiano e ci sono dei momenti in cui bisogna mettersi in discussione Ed è quello che secondo me ho fatto in QSP Ingenuità che è diverso da gentilezza Esatto, esatto, sì perché è gentilezza comunque consapevole Anzi il rendersi conto di quanto la gentilezza possa essere potente secondo me in un mondo come quello di oggi in cui sembra scomparsa Quindi anche il saper prendere posizione nell'educazione e nella gentilezza senza passare per ingenui Ma è un po' una provocazione forse anche no? Cioè nel senso proprio come a dire sono sempre io Quello che ha scritto questo brand sono cambiato tantissimo perché sono passati tre anni E per me anche solo due settimane sono tantissime e mi sento un'altra persona rispetto a quello che ero prima Però è come una nostalgia finta perché riguardando indietro mi rendo sempre conto che è solo parte di un percorso E' parte di un processo tutto quello che mi ha portato da Concedimi fino ad oggi no? Quindi me lo vivo in questo modo e mi piace anche il contrasto tra queste due parole che di per sé sembrano lontane no? La nostalgia è qualcosa di finto, dici come fa la nostalgia essere finta? In realtà è finta perché non mi sento di essere cambiato nel modo in cui mi approccio alla musica Cioè quello l'ho lasciato sempre simile ed è un po' il filo conduttore Sto cambiando io e sto cambiando il modo di pensare ma più che cambiando forse sto crescendo Che è la cosa che mi piace no? E quindi finta nostalgia per me è proprio ripercorrere tutto il percorso a ritroso no? Poi io sono una persona che vive di nostalgia no? E vive di... vivo un po' nel passato spesso e volentieri, fa difficoltà ad accettare il cambiamento E quindi anche quello sta nella finta nostalgia, nel non saper staccarsi dal passato Qual è il cambiamento più difficile che hai dovuto affrontare? Ma personalmente parlando forse è l'accettare di avere dei sentimenti E aprirmi un po' all'ascolto sia mio che delle persone attorno a me Io sono sempre stato molto in superficie, molto razionale, molto inquadrato Anche le emozioni non ci davo così tanto peso no? Alle tue? Alle mie ma anche quelle delle altre persone Sì, proprio... avevo fatto questo brano anche nei singoli che poi non... Apatico, che era un brano che parlava proprio di questo no? Della mia difficoltà a cogliere le emozioni e a percepirle Ora mi sento molto più empatico, non che io sia diventato un pozzo di empatia Però sento che proprio il lavoro che ho fatto e la crescita che ho avuto È scoprirmi molto più vulnerabile, molto più insicuro di quanto mi ammettevo di essere Che in realtà è bello, cioè ho solo accettato le mie vulnerabilità Ma forse dandomi i miei tempi e non stando ai tempi dell'industria Perché poi se dovessimo stare ai tempi dell'industria io dovrei scrivere tutti i giorni E dovrei mettermi lì tutti i giorni perché è così che deve fare un artista no? Perché è sempre migliorarsi, sempre tirar fuori il meglio Io purtroppo, per fortuna, non credo tanto in questa cosa Do tanta importanza, soprattutto negli ultimi anni ho imparato a dare predominanza all'istinto Quindi a quando voglio scrivere scrivo, quando sento di dover scrivere scrivo Non è un vado in studio a scrivere il brano per quello, il brano estivo, il brano per quella situazione precisa Non credo tanto in quella cosa lì, credo più nel tirar fuori un qualcosa che sento Quindi quando lo sento dentro poi a me si manifesta tutto nella pancia Quindi quando ho il nodino lì che lo sento so che è il momento di scrivere una canzone E cerco di preservare quella cosa lì, cioè la cosa che negli ultimi anni mi sta un po' preservando Nonostante anche io mi faccia prendere dal lavoro Guardandomi indietro il me performante, il me perfezionista dico Potevo fare di più, potevo mettermi, fare bababam, bababam Però dall'altra il me umano non robot pensa che invece ho fatto bene Cioè che se non ho spinto in quel momento lì vuol dire che non ero pronto a spingere in un modo in cui volevo E penso che ci sia un tempo per ogni cosa E penso che anzi il tempo che mi sono permesso e che mi sono dato nell'ultimo tempo Mi abbia proprio preparato al meglio per poi ciò che arriverà E gli studi intanto come vanno? Gli studi procedono bene, stiamo praticamente addirittura ad arrivo E forse anche per quello che mi sono permesso di prendermi un po' di tempo Avevo da seguire gli studi e ci tenevo a finirli E mi laureo tra due settimane e dall'altra volevo anche portare avanti la musica E adesso sento che è proprio il momento giusto Contestualmente stanno finendo gli studi, sta finendo questo percorso Quindi è anche giusto dedicarmi alla musica Ci sarà, cioè ho tanto ancora da tirare fuori E spero ci sarà il modo Lato live, ora non c'è ancora niente di preciso Però sicuramente l'idea è che si possa trasferire un po' il mondo di finta nostalgia anche nel live Anche perché poi di mio non ho mai avuto modo Anche non avendo mai pubblicato un album in EP Di fare qualcosa nei live di più concreto, organico e mio Quindi l'idea è anche un po' quella Che si possa traslare nel mondo dei live Io non ho fretta, cioè io so solo che se sono qua ci sono per rimanerci E quindi voglio che ogni cosa arrivi al momento giusto Non... Penso anche sia giusto godersi il percorso, no? Cioè a me piace proprio l'idea di guardare indietro e dire Guarda cosa ho fatto, cioè da dove sono partita e da dove sono arrivato Cioè... Se no, dov'è il gusto? Cioè anche io da persona Poi dici, stai parlando tu che hai fatto Sanremo a 19 anni Cioè hai anche ragione Però proprio perché l'ho fatto così presso Mi rendo conto di quanto a volte bruciare le tappe sia sbagliato Non che stia dicendo di averle bruciate Anzi è stato giusto che io l'abbia fatto in quel momento lì Perché mi è servito e mi ha dato modo di prendere tanta consapevolezza Dall'altra però è anche giusto Sapersi prendere i propri tempi e viversi le cose per come vengono E non forzarle soprattutto Tutto